esca cercherò tramite la pesca traina di prendere un luzzo ora se vi posso vedere come sono strutturato poi farò partire in video allora questo è il barchino ragazzi non ho specificato prima che si cercherò a traina di prendere un luzzo e la cosa importante è di riuscire comunque a con la mia telecamerina che è fissata qua di riuscire a prendere esattamente il momento in cui il luzzo afferra vi posso garantire che c'è un lavoro dietro non indifferente questa è la barca che conoscete che sto testando almeno da tre mesi abbiamo un collegamento con un fil di ferro, telecamera, calamite per tenere fermo il tutto fil di ferro, pesciolino, un amo solo perché nel laghetto dove andrò a pescare voglio un amo solo senza artiglione ho due o tre esche, adesso questa qua è piccolina però ho un luzzo grande, una gomma grande tutta roba anche da 20-25 cm, adesso vedrò bene quella a montare comunque il procedimento è questo, barchino, telecamera, fil di ferro, esca e speriamo che un vecchio maialone abbocchi full timer pesca poi proviamo il barchino e andiamo a Luzzi due lanci però li facciamo così e ci siamo, prendeva, lo prendeva cacchio preso ho preso il luzzo? ho una carpa? no no ma cos'è? minchia Jack, ma cosa ho preso? ooooooh buona 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 ho preso un mega luzzo ragazzi miei e prendeva lo sviglio del big fish che no c'è sta mica qua è andato via porco cane cuore